Musica Pia ma che ore sono? E che ore sono? Sono le 8.05, buongiorno! Ma buongiorno a tutti voi che ci seguite da casa con il caffè in mano, con le fette biscottate, con i biscotti, con la crostata... Con il panino, con il panino, con la piadina, anche la colazione salata merita! Eh, sì, merita! Merita, ma non... Ma non da tutti, solo tu Pia la mattina, questa cosa un po' british, un po' americana, un po' così, particolare! Tanto parleremo di nutrizione, perché questo sarà il tema di cui parleremo in apertura, come di consueto, con la nostra nutrizionista, la dottoressa Rosa Giovanna Pinizzotto. Poi? E poi si fa un passo in avanti con fatti di cronaca, si parla di madricidi e patricidi, cosa sono e perché sono così tanti, soprattutto in questi ultimi tempi. Ne parleremo con una psicologa forense per capire e andare ad analizzare questa grande realtà. Non è tutto, poi ci occuperemo come di consueto non solo di nutrizione... Di benessere! Ma di benessere, un benessere però mentale, quel benessere, quella salute che ci porta, sorridenti, dove? A teatro, ebbene sì, a teatro a vedere un nuovo spettacolo, che non è proprio, proprio lì! Ebbene, lo scopriremo, lo scopriremo strada facendo. Non dico nulla! E poi, come di consueto, la nostra astrologa Paola Aspri e ti porto in vacanza, Deborah! Vediamo se oggi anche riesci a darmi quel pizzico kitsch che dici, ah, forse è giusto che venerdì, sabato o domenica ci sia uno stravolgimento dei miei piani. Sai dove ti porto? No! Ti porto a cancellare, andiamo in Basilicata. Addirittura laggiù, in fondo, sono tante le ore. Sono tante ore, ma ne vale la pena, ne vale la pena. Vieni con me? Vengo con te. No, perché l'ultima volta mi hai detto andiamo a fare un pellegrinaggio, vai, come vai? Cioè, andiamo insieme, non ci va. No, no, il pellegrinaggio no, però cancellare sì, l'antico borgo medievale, magari chissà, paese che vai, Pina che trovi, anche a Cancellara. Ah, questo mi piace, mi piace anche il paese che vai, Pina Giordano che trovi. E quindi questa sarà la nostra realtà di questa bellissima giornata. Oggi è 3 agosto o sbaglio? 3 agosto. 3 agosto. Mercoledì. Mercoledì. Quali sono i vostri piani? Quali sono i tuoi? Beh, i nostri li avete capiti bene e quindi partiamo subito con il nostro primo racconto. Vado a presentare la dottoressa Rosa Giovanna Pinizzotto, nutrizionista. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Dottoressa, buongiorno. Chiaramente Deborah è la prima volta che la conosce, insomma, che si trova a fare questa chiacchierata. La nostra Deborah, amante comunque della vita sana, Deborah, tu sei una grande sportiva, ti nutri bene. Bisogna. Amo però, amo i dolci, quindi preferisco evitare un piatto di pasta e prendere il gelato. Lo so che è sbagliato, ma è qualcosa che mi fa stare bene come salute mentale. Però oggi amplieremo un pochino il tema, perché sì, parleremo di nutrizione, ma soprattutto parleremo di cosa? Della tanto temuta prova costume. Noi abbiamo confezionato un servizio e dopo torniamo da voi. Con il caldo già estivo di questi giorni, anche se ancora intermittente, è stress da prova costume per il 69% degli italiani, convinto di essere fuori forma. Indossare il costume da bagno è infatti una preoccupazione per oltre 7 italiani su 10, secondo un'indagine condotta su circa 1600 italiani, uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 60 anni. In base ai dati raccolti, il 56% dei monitorati vede il gesto di indossare il costume come un problema, mentre addirittura il 33% si dichiara rassegnato. In particolare il 44% dei soggetti dichiara di prepararsi attentamente. Un 29% è ancora indeciso sul da farsi, mentre solo il 27% non prenderà alcun accorgimento. Secondo lo psichiatra Michele Cucchi, direttore sanitario del Centro Medico Sant'Agostino di Milano, la prova costume è un tormentone in questo periodo e attraversa i pensieri di tutti. Per molti rimane un pensiero passeggero, per altri c'è il rischio invece che diventi motivo di forte disagio, una rimuginazione su cui la mente si inceppa e una potenziale causa di intensa ansia. Dottoressa, io questa prova costume non l'ho mai metabolizzata, forse perché... Perché la superi a pieni voti? No, perché c'è sempre uno standard dietro, lo standard imposto dalla società, a quello che dicono, se hai questa forma forse è meglio il costume intero, se hai un altro tipo di forma il bikini, un altro tipo ancora è meglio lo spezzato, con però dei fili che allacciano la parte sopra e la parte sotto. Non lo so, io l'ho vista sempre così. Lei? Allora, esattamente così, purtroppo c'è il peso mediatico, la prova costume altro non è che in effetti un'invenzione mediatica che porta purtroppo molte persone a rinunciare ad andare al mare, a indossare il costume preferito, proprio perché il senso di disagio, la paura di non rispettare poi dei canoni estetici imposti dalla tv, dai mass media, purtroppo porta appunto alla rinuncia della spiaggia, quindi di regarsi al mare. L'argomento di oggi in qualche modo abbraccia due tematiche, che sono l'educazione alimentare e la psicologia. Infatti è molto importante che il nutrizionista e lo psicologo collaborino e lavorino in modo sinergico, proprio per il benessere a 360 gradi della persona. Allora, io sono completamente d'accordo con lei, ma questo si era dedotto anche dall'inizio. Anzi, tornando indietro nel tempo di qualche mese fa, se non sbaglio era inizio di giugno, quando comparve quella prima pagina di una rivista nota al gossip di una donna, di una donna che ha cambiato il suo fisico negli anni. Prima la ricordavamo con un corpo longilineo, adesso invece un pochino... Possiamo anche fare i nomi, Deborah, della donna di cui stai parlando, anche perché... Si chiama, non me lo ricordo. Vanessa Incontrata. Vanessa Incontrata. Vanessa Incontrata, sì, è proprio lei che con gli anni l'abbiamo vista così, però si è accettata. Secondo me, non so se è stata seguita da una psicologa o una nutrizionista a causa dei suoi problemi. Sicuro però è che è dovuto affrontare quello scontro di cui lei parlava, che è quello dei mass media che hanno puntato su di lei. Anche Caterina Balivo. Ah, è vero, è vero, anche lei. Allora, sicuramente bisogna dire che ancora una volta i canoni estetici sono cambiati. Se pensiamo alla donna in copertina negli anni 50 e la rivediamo oggi, nel 2022, va di moda la magrezza, ma in realtà dovrebbe andare di moda la salute. Prima di tutto bisogna dire che non esiste una vera e propria prova costume, così come non esiste nessun regime alimentare con troppe rinunce che bisogna seguire per entrare in quel costume tanto desiderato. Bisogna che ritorni di moda l'educazione alimentare per tutto l'anno, quindi non solo da mettere in pratica nel periodo estivo, così come adesso capiterà in inizio settembre, quando ci sarà una corsa per recuperare invece chili acquistati dopo le vacanze estive e con la ripresa della vita sociale. E con la palestra, ecco, l'inizio dell'abbonamento in palestra, perché così è solidamente... Eppure c'è, dottoressa, un paese, che è la nostra vicina Spagna, che ha fatto dei grandi passi in avanti, perché il Ministero spagnolo per l'Uaianza ha lanciato una campagna estiva incoraggiando le donne a rifiutare gli stereotipi e la violenza estetica, riferimento questo alla pressione sociale che alcune donne sentono per conformarsi agli ideali di bellezza. Quindi, cosa c'è stato? Un poster pubblicitario della campagna che presenta donne di diversa età, tagli e colori della pelle in costume da bagno in spiaggia. E lo slogan è l'estate appartiene anche a noi. Cosa ne pensa, dottoressa? Sono perfettamente d'accordo. In effetti bisogna lavorare molto su questo aspetto. Io ho molte pazienti che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze al mare proprio perché il senso di disagio supera ogni altra cosa. Invece bisogna aiutarle innanzitutto a lavorare sull'educazione alimentare, quindi sul proprio stile alimentare. Ma questo non soltanto per l'estetica, prima di tutto per la salute, perché come diciamo sempre, mangiare bene non aiuta soltanto l'aspetto fisico, ma l'aspetto fisiologico, quindi il corpo nella mente e anche nel cuore e nell'intestino. Però allo stesso tempo dobbiamo aiutarle anche sul lato psicologico, perché altrimenti non ci sarà una buona riuscita della dieta. Se la persona non si accetta, non si accetterà neanche dopo aver perso 10-20 kg, perché anzi ci sarà una rincorsa a raggiungere quel canone estetico che non è voluto dalla persona, ma è voluto bensì dai mass media, quindi dalle influencer, dai social e da tutto quello che possiamo aggiungere. Allora, lei ha toccato secondo me due temi fondamentali. Il primo dell'educazione alimentare. Facendo un passo indietro, ecco che io ricordo che l'educazione alimentare la studiavamo con tecnica, cioè una materia nella materia che non c'entravano assolutamente niente con il disegno geometrico, solo per ricondurci a quella che è la piramide alimentare. La seconda, quella dei social media, quella dei social media, dove tanti influencer postano le loro foto in bikini, dove sono super in forma, sponsorizzando anche non solo il loro corpo, ma anche il prodotto. Ecco, questo binomio non funziona più, non funziona più perché molte si sentono schiave del giudizio, attraverso l'AIC, attraverso le condivisioni. Ecco, come poter affrontare il primo problema, quello dell'educazione alimentare, di inserire un piano adeguato e parallelamente il secondo, cioè di portare all'attenzione non solo il corpo perfetto, ma anche il corpo non perfetto, definito così dalla società. Bisognerebbe inserire nuovamente educazione alimentare tra le materie scolastiche. Ma c'è mai stata? In passato c'è stata in effetti, o meglio, sicuramente la tematica della nutrizione si toccava nelle scienze, nella biologia, però attualmente non esiste una materia appunto che si chiami educazione alimentare, e bisognerebbe fare dei progetti già nella fase preadolescenziale, anzi addirittura nella scuola dell'infanzia, lavorare sui più piccoli. Ad esempio, oggi si propone molto l'autosvezzamento, su cui io sono sia d'accordo che non d'accordo, ovvero non esiste più lo svezzamento canonico come una volta, quindi i bambini vengono educati alle pappine, eccetera, si dice ai genitori fateli mangiare quello che mangiate voi. Però prima di tutto bisognerebbe chiedersi, ma come mangiano questi genitori? Perché è importante anche che l'educazione alimentare coinvolga le famiglie, altrimenti noi trasmetteremo a questi bambini già un messaggio sbagliato di educazione alimentare. Anche perché, dottoressa, capita spesso anche di vedere famiglie in sovrappeso e anche i bambini sono in sovrappeso, effettivamente è molto importante questo tema. Io quante famiglie vedo anche in grandi fast food rifornirsi come se non fosse una famiglia a mangiare, ma almeno tre o quattro, quindi il problema è veramente molto ampio. Sicuramente sono stati fatti dei passi in avanti, ma ancora siamo molto indietro. Basta soltanto buttare un occhio al carrello della spesa di molte famiglie quando si va al supermercato. È un'abitudine che ho normalmente, ovvero vedere un po' i prodotti acquistati dalle famiglie. Purtroppo abbiamo un alto tasso di sovrappeso e di obesità nella fascia pediatrica e questo significa che avremo una popolazione adulta malata perché diciamolo, l'obesità non è soltanto un problema sociale, etico, eccetera, ma è prima di tutto un problema sanitario perché l'obesità genera altre malattie, ma è prima di tutto essa stessa una malattia perché causa infiammazione nell'organismo. Certo, dottoressa. Chiaramente perdere peso velocemente non è raccomandabile, però dottoressa, qualche consiglio per ottenere una forma fisica in maniera un pochino più veloce e repentina visto diciamo che fa piacere, no, d'estate anche indossare dei capi un pochino più, non so, trasparenti o dei capi che permettono anche di far vedere qualcosina in più. Per esempio, come creare un piatto equilibrato non facendo assolutamente mancare nulla sotto l'aspetto proprio dei nutrienti. Ci dica lei. Bisogna sempre rispolverare la nostra vecchia ma ovviamente sempre più provata dal punto di vista scientifico dieta mediterranea. Il piatto sano che a pranzo può essere composto da un cereale integrale con delle verdure condito con olio extravergine di oliva e magari possibilmente abbinato a dei legumi. Penso a un'insalata di farro, ceci, pomodorini condita con olio extravergine di oliva e magari dei cetrioli che ci danno anche quella componente acquosa di cui abbiamo bisogno per idratarci in estate. Mentre a cena prediligiamo un secondo, un pesce o una carne sempre accompagnata da una verdura rigorosamente di stagione e dal pane tostato, perché tostandolo il pane togliamo un po' quella componente acquosa, abbassiamo anche l'indice glicemico e quindi lo rendiamo anche più digeribile. Oppure al posto del pane possiamo utilizzare le patate circa 250 grammi di patate e basta utilizzare la mano, è una patata grande circa quanto la mano e possiamo cuocerle o a vapore o al forno oppure lesse, però lasciamole sempre leggermente raffreddare in modo tale da abbassare ulteriormente l'indice glicemico e in questo modo anche i diabetici potranno mangiarle. Ecco, lei prima parlava di questo carrello della spesa un carrello che, facendoci caso, sembra quasi veloce ora le spiego meglio molte persone, stando tante ore al lavoro devono comprarsi dei cibi per così dire pronti e pronti anche all'uso cioè stiamo parlando di verdure congelate stiamo parlando di piedine stiamo parlando di patatine fritte, precotte, ricongelate oppure andiamo direttamente al reparto frigo l'insalata, già dentro c'è il mais, il pomodorino, la carota ecco, questo anche influisce tantissimo nel dover seguire rigorosamente una dieta Assolutamente questo è un problema comune che riscontro spesso tra i pazienti ovvero la poco tempo a disposizione perché ormai lavoriamo tutti e dobbiamo in qualche modo sostituire la nostra dieta con pasti o pronti o addirittura sostituti dei pasti però in realtà bisogna organizzarsi soprattutto mentalmente quindi creare una buona lista della spesa questo anche per un impatto poi sociale ed ecologico perché si parla tanto di sostenibilità però non lo mettiamo mai in pratica perché andiamo a fare la spesa senza una lista e quindi acquistiamo sempre gli stessi prodotti e a fine settimana finiscono appunto nel cestino dell'immondizia invece bisogna organizzare la spesa e bisogna organizzare il menù settimanale preparandosi appunto delle insalate di riso della pasta fredda da portare anche al lavoro con una borsa frigo e evitare di acquistare invece prodotti pronti o peggio ancora sostituti dei pasti spesso mi chiedono le barrette ma un sostituto del pasto non può essere considerato salutare? certo assolutamente no ovvio però molte persone vista anche la scarsa capacità di organizzazioni cosa fanno? chiedono alla nutrizionista non so se è il suo caso che molti clienti le chiedano ma posso fare e mangiare un panino per pranzo? per cinque giorni è mai successo per quei giorni lavorativi che facciano richieste di questo tipo? è successo ed è possibile anche preparare un panino magari non per cinque giorni consecutivi perché la monotonia nella dieta non è assolutamente utile beh ovviamente si cambia una volta con il salmone una volta col pomodoro e si può fare si può fare bisogna però prepararlo a casa prediligendo un pane integrale pane di semi pane di segale quindi cambiare anche la farina con cui è preparato il pane e la farcitura magari un giorno possiamo farlo con una mozzarella e dei pomodori un giorno con salmone e rughetta un altro giorno prediligendo un affettato e perché no anche nel panino mettere dei legumi questi tanto amati legumi che bisogna consumare di più ad esempio con l'humus di ceci e le verdure grigliate è un panino molto salutare e molto gustoso ecco dottoressa lei ha fatto prima un accenno all'obesità soprattutto tra i più piccoli noi abbiamo un servizio lo guardiamo insieme dalle fave cicoria pugliesi alla minestra di fagioli e cavolo alla fiorentina dalla zuppa di zucca alla milanese agli arancini e caponata light siciliani è un vero e proprio giro di taglia a tavola con ricette rigorosamente diabetically correct in cui trionfano gusto e dieta mediterranea quella proposta dalla società italiana di diabetologia SID in occasione della giornata mondiale del diabete che si celebra il 14 novembre l'idea è la base di questa iniziativa spiega Agostino Consoli presidente eletto SID è quella di raccogliere delle ricette regionali che insegnino a confezionare cibi sani ma al tempo stesso buoni perché l'aforisma se è buono fa male è un old fake news e per alcune di esse sottolinea il presidente SID Francesco Furrello stiamo mettendo a punto delle vere e proprie video ricette con l'aiuto di Chef Stellati da proporre al grande pubblico sui social per dare la massima diffusione a questo piacevole messaggio di prevenzione la dieta ideale per la prevenzione e il trattamento delle persone con diabete spiegano i diabetologi prevede una alimentazione ricca di fibre da ortaggi frutta cereali non raffinati e povera di grassi animali mentre le fonti di carboidrati da preferire sono cereali integrali frutta legumi e vegetali inoltre un'introduzione moderata di alcol fino a 10 grammi al giorno nella donna e 20 grammi al giorno nell'uomo è accettabile ed ecco in questa ultima immagine abbiamo visto del vino un vino accompagnato a una dieta in che quantità? sicuramente non esistono delle quantità da suggerire ma solo da consigliare ovvero quel mezzo bicchiere di vino rosso che io però consiglio a giorni alterni anche perché fa caldo e l'alcol è vasodilatatore quindi ci fa sentire ulteriormente caldo perché appunto ci fa emanare proprio più calore quindi meglio assumerlo a giorni alterni a solo ad un passo invece quello che voglio dirvi è che ho visto che appunto c'è questa riscoperta dei sapori della nostra terra e ben venga bisogna sempre però rispettare un equilibrio quindi una moderazione nelle quantità andiamo in vacanza ed è giusto assaggiare i piatti tipici della terra che visitiamo perché al cibo noi dobbiamo dare un valore non soltanto appunto fisiologico nutritivo ma anche simbolico culturale quindi è giusto assaggiare ma in quantità magari più ridotte ad oggi secondo me il cibo sta assumendo un valore eccessivo perché controlliamo anche come vanno le giornate quando ci vediamo con gli amici o è di fronte a un piatto di pasta o è di fronte ad un aperitivo cioè il cibo è diventato quasi il pilastro di ogni nostra conversazione hai mai mangiato sei mai stato a quel tipo di ristorante ecco forse è eccessivo e tanti i food blogger tanti i food lover ecco forse dovremmo anche un pochino guardare altrove non lo so è giusto così effettivamente c'è una un significato eccessivo che diamo al cibo e qualsiasi evento ruota intorno a un ristorante ha qualcosa di nuovo da assaggiare da assaporare ecco dottoressa mi scusi se l'interrompo abbiamo parlato di patologie alimentari abbiamo visto insomma tra queste il diabete però è molto importante parlare dello stretto rapporto che c'è tra il cibo e la mente ed anche a volte il valore affettivo che diamo al cibo ma come si può raggiungere secondo lei un perfetto equilibrio il mio lavoro dovrebbe appunto essere in stretta sintonia con quello dello psicologo proprio per lavorare sia sulla mente sia sul corpo perché quando si soffre spesso si mangia troppo si mangia troppo poco questo significa che al cibo diamo quel significato affettivo che realmente non ha cioè riversiamo tutti i nostri bisogni le nostre mancanze sul cibo che così diventa una sorta di contenitore di tutti i nostri bisogni quindi bisognerebbe lavorare sulla persona e capire che per gestire le emozioni non bisogna soltanto mangiare oppure non mangiare ma ci sono altri modi per far sì che la gestione delle emozioni non passi attraverso la tavola sono d'accordissimo con lei anzi questo argomento ha dei disturbi alimentari se possiamo la disturbiamo nuovamente per trattarlo settimana prossima perché sono tantissimi le varie tipologie e quindi per capirle al meglio è necessario un approfondimento da parte di una nutrizionista grazie per essere stata qui con noi grazie a voi e buon lavoro grazie dottoressa Debora io direi di andare velocemente in pubblicità prossimo tema molto molto delicato perché parleremo di madricidi e padricidi quindi restate qui con noi